Io credo che non ci sia da dire parole, proprio la parola giusta è l'oro della Valdichiana, golden, ruggine, valdichiana. Siamo in piena raccolta nella Valdichiana a Rettina per la produzione delle mele, qui ne vedremo una varietà proprio specifica, si chiama golden ed ecco perché viene proprio chiamato l'oro della Valdichiana. Come vedi è gialla, ruggine, ha un sapore croccante e è diversa da tutte le altre mele che si possono trovare, sì perché è molto dolce come prodotto, raccolto al momento giusto e rimane anche molto ben croccante, si mantiene bene anche in frigorifero. Perché la Valdichiana è il posto giusto per questo prodotto? La Valdichiana, come sapete, in passato era una palude, quindi ancora abbiamo l'uno, l'uno e mezzo per cento di sostanza organica nel terreno, con gli impianti così a prato, quindi viene sfalciata l'erba e tutta sostanza organica che rimane nel terreno, piante che non sfruttano molto perché hanno un apparato radicale che è quasi capillare, molto capillare e molto fine. La raccolta a mano, vediamo. La raccolta è rigorosamente a mano, il raccolto va fatto quando la mela è asciutta perché sennò si può stringere e rompere, comunque dipende sempre dall'impostazione della grana del prodotto che è interno. Quante ne producete? Di Goldene andiamo intorno ai 2000 quintali, un 4000 per la Staima e poi c'è un po' di Fuji, però ecco la prevalenza è la Staiman. Poi abbiamo questo marchio che è il marchio bellissimo di questa azienda, viene messo sia sulle pesche che sulle mele, sul lavorato incassettato, c'è scritto i frutti della confusione sessuale. Perché? Perché adottiamo aromi per confondere gli insetti affinché non si confondano e non riescono a riprodursi. È una cosa che prevalentemente viene fatta sul pesco, qui si agisce con le reti, però devo dire che effettivamente funziona. Questo qui è un prodotto che va a finire nel mercato di Bologna, nel mercato di Novoli, Firenze, il mare, Massa, questi posti qui. Noi come azienda abbiamo deciso di fare un prodotto superiore perché? Per cercare di mantenere quell'economia nella piccola distribuzione, in modo da dare un prodotto eccezionale e far sì che un'economia rimanga nel territorio nazionale. Questo credo che sia un fatto importante, che in Italia spesso ci siamo dimenticati dell'economia del nostro paese. Questo credo che sia un prodotto eccezionale.